Ragazzi benvenuti in questa nuova compilation di fail fatta durante la registrazione delle bad war in compagnia di mio fratello Marci Mi raccomando arriviamo a 200 mi piace per un prossimo video in compagnia di quell'idiota, bella Bella ragazzi qui è Marco e bentornati in questo video ragazzi siamo oggi finalmente in compagnia di mio fratello Marci Ciao bella E ragazzi Aspetta devo metterci più enfasi Beh mettersi più enfasi Marci Ok Bella ragazzi finalmente siamo qui Vedete nei commenti Marci merda Hashtag Marci merda perché Ok ho staccato la webcam No Dai tagli sta parte No Vabbè ragazzi ci troviamo oggi sui bad wars su gomme HD ragazzi Marci finito la partita che vuoi te guarda mi finite Per forza devo uscire io Muoiti va E quelle per due non le vedo Quelle per due dove sono? Sono finite In tutto ciò Quelle per due Dove sono? Dove sono? Ah Gab Bella ragazzuoli Qua ho un Quattro per due Quattro per due Sono entrato Scegli subito il team Muoviti Subito team giallo Team giallo muoviti 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 Sam Facciamo Caraghe Stai lasciando un ca**o Con Dunque Non riesco a prendere, ho preso il mio Matteo. Secondo, ti levi dai coglioni. Sì, ho 40 blocchi. Grazie, ne ho 4, 5. Ma dov'è che è l'agente? Scusa, ma c'è qualcosa che non vado. Io non vedo l'altra isola, però, zio. Ma niench'io. È in fondo, stanno già arrivando, calcola, ma c. Calcola, stanno già arrivando. Ma scu... Ma così arrivano? Eh sì, è così diretto, mi sa. Ah. Ehm. Non so, non so cosa fare. Mi sto facendo già l'armatura, calcola. La spada. Sei pronto, Adam? Riusciamo a farci... Eh, ma l'oro dov'è? L'oro te lo dà, l'oro te lo dà. Perché l'ho indicato? Perché ha fatto tre spade di... Stanno già arrivando, eh. Proteggiamo un attimino, li proteggo io, li metto un attimo. Ma vai a non proteggere niente che te non sei capace di fare niente. Coglione di merda. Di me se mi stanno... Mi stanno puntando? Eh sì, stanno venendo... Sono un po' più verso l'altra destra. Capito? Ma l'oro dov'è? In tutto ciò, l'oro dov'è? Io ce l'ho io, io ce l'ho due pezzi di oro. Fai una... Un coso? Mi manca uno per l'arco. Ehm, prendi, muoviti. Vai, dai, dai, regazzo d'oro. Sto facendo un accesso veloce per mettere dentro le robe anche. La portiamo troppo a casa sta partita. La portiamo troppo a casa sta partita. La portiamo troppo a casa sta partita. Io credo in me. Nel cuore di... Marco Colletto. Marco Colletto. Marco Colletto. Lo puoi arare perché tu sei Marcello, ma da Marci. E sta shiftando perché ho paura. Stavo intenzione di fare, perché? Sta scappando? Ok, ok. Fallo, di qui. Allora, qua c'è l'oro e mi faccio l'arco. Tu vuoi qualcosa? Io non hai ancora? Io voglio un arco. Dove devo te, dai? Faccio adesso. Ah, che figa. Bomber, tini l'arco. Dove sei? Ah, le frecci. Devo aspettare ancora un po' d'oro. Fai le ladder, fai le ladder. Le sei, pirla. Ok, sono salvo. Io non so come sono salvo. Gli ho buttato in te noi giovani. No, c'era dietro, Marci. C'era dietro. Vai buttato uno. Ma come cazzo ha fatto a non cadere? L'ho preso. No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. No, guarda che... In tutto ciò, dammi sto arco e dimmi come non ho l'arco. To, to. Allora, qua uno e qua due. Però io cazzo non l'ho colpito e non è caduto. Dammi l'arco, Marco l'arco. To, 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 to. T'ho cagato. Tieni. Occhi che magari stanno arrivando. Ho bisogno di una spada, ferro, ferro o quanto ne ho? To, to la spada, te la do io qua. To, tieni. Vai, i blocchi, blocchi. Ferro, ho otto blocchi. Ok, blocchi ne ho, blocchi ne ho, blocchi ne ho. Allora, vi faccio intanto una spada. Ho bisogno di altri blocchi. Di cosa? To. Ce li ho, ce li ho, ce li ho. Ti ho detto che ce li ho, scialla. Hai visto? Sapevo, dicevi qua. Che ansia. Sta arrivando, eh. Ok. Mamma mia! No, come cazzo ho fatto? Sto qua non cade. Va bene, va bene, va bene. Sono venuto con l'oro, però fa niente. Stiamo frecciando. Sì, aspetta che mi faccio ammazzare. Aspetta, se muoio perdo la roba? Sì, buttarla nella cesta. Fai così, buttarla nella cesta. No, no, non butto niente. Copri un attimo, copri un attimo. Ok, un attimo. Sto prendendo una spada. Metti, oh, devi coprire con le ceste le cose. Eh, Marci, però serve il ferro per le ceste. Eh, il ferro ce l'abbiamo. Siamo un po' nella merda per il fatto che... Mi hanno ammazzato. Dove è andato? Ho perso l'arco. Non so come hanno fatto ad ammazzarmi, ma ho perso l'arco. Ok. Come hai perso l'arco, cazzo? Siamo nella merda, Marco. Eh, siamo nella merda sì. Stanno arrivando in tre, Marci. Prendi un piccone. Prendi un piccone al volo che spacchiamo tutto qua. No, che piccone. Ma com'è che non è morto? Non cade, la gente non cade. La gente non cade. La gente che non cade. Ce l'hanno il piccone? Eh, stanno arrivando, stanno arrivando, mi hanno ammazzato. Sti bastardi. A mani nude. Vai, Marci. A mani nude. Marci, oddio. Ma provai, va. Ma che cazzo hai fatto? Cosa ho fatto? Aspetta che mi proteggo con le ceste al volo. Ok. No, ragazzi, non è assolutamente vero. Io non so tu come cazzo abbia fatto, davvero. Se lo giuro, non ci voglio credere. Aspetta. Marco, ho bisogno di oro. Ce l'hai l'oro? Eh, sì, ce l'ho uno qua. Top, top, top. Te l'ho cagata. Te l'ho cagata adesso. Eh, quanto argento hai? Fai una spada. Zero. Zero. Uno adesso. Ho fatto io la spada. Per me? Fatti la spada anche te. Ok, sta arrivando, Marci. Sta arrivando uno. Veloce. Girati. Non posso girarmi, Marco. Vai prenderlo. Sta arrivando. Ok, scialla. Scialla un attimo. Scialla un attimo. Eh, sta arrivando dall'alto. Fammi ricordare cosa devo fare. Mi hai fatto dimenticare, zio maialino pedrito. Marci, sta arrivando. Sta arrivando. Piccone, ok. Sta arrivando, eh. Dall'alto. Tu ce l'hai dei blocchi? Sì, sì, sì. Sali te? Sì, vabbè. Ma stai scherzando? È caduto, è caduto. Sciallo, è caduto. Sciallo, sciallo. Ma non può fare una cosa del genere. Eh, l'ho visto anch'io, Marci. Sta nacherando, lo so. Eh, stanno nacherando, lo so. Che cazzo devo farci. Io provo una cosa. Allora, aspetta. Quanto oro abbiamo? Abbiamo due pezzi di oro che ho io. Forse qua, ma qua non c'è c'è niente. Quanto costa l'arco con i fita? Tre. Tre. Adesso arriverà l'altro pezzo d'oro prima o poi. Minchia, sono ancora nella cazza. Bisogno di oro. Allora, fai una cosa. Copriamolo stra meglio, sto cosa. Chi se ne frega. Ok, mettiamo un po' di armi a tele anche. Prima fanno così, con sti co-blocchi qua. Comunque ci vuole tanto per... Cioè, sì, vabbè, ci vuole tanto. Di davanti hai fatto bene a far così. Perché comunque è il pezzo davanti che potrebbero spaccare principali. Quindi... Comunque c'ho l'oro, eh, Toh. Toh che ti fai l'arco. Però con l'oro ti manca anche uno per far la freccia, eh. Passa. Toh. Inizia a farti lato. Ah, ci vuole... Eh, una freccia. Ah, sta arrivando ad arrivato un altro pezzo d'oro. È arrivato un altro pezzo d'oro, prendilo te. E buttamolo addosso, riesci. Eh, è lì, è lì. Che ci serve sto arco. Mi faccio anche... Eh, senti le ceste a mettere qua e là per da fastidio, va bene. Sì, le ceste mettile davanti, bravi. Cerca di coprire tutto con le ceste. Dagli un occhio, magari sta arrivando. E non posso guardare, mi devo fare un'armatura al cuore, Marco. Sto guardando io. Faccio guarda... Te la faccio anche a te, va? Vai. Ok. No! Dove cazzo è saltato fuori questo? Zio pera. Sono cinquanta... Allora, Marci... Siamo quattro. Minchia, ma eravamo da soci. Sono morti. No, dai, Marci, non iniziare. Mi sono buttato. Ho fatto apposto. Ho spaccato il nostro letto. Perché sei un dotticente? Non si spacca il nostro letto. Non si spanna, stavo per dire. Non si spacca il nostro letto. Il ferro dove cazzo spona? Marco Evita, lascia perdere. Ma dai, ma io sono bravo nei coprire. Ma vai a cacchè, vai. Vai a cacchè. A cacchè non si può sentire. Però vabbè. Sì, qui stanno facendo il ponte. Sì, l'ho già fatto. Il ponticello. A Monticello. Abbiamo fatto il ponte di Messina. Andiamo a Monticello? No, Marci. No, eh. No, eh. No, eh. E' a Mingabino. Ah, hanno fatto il ponte proprio lungo. Cello. Hanno fatto il ponte proprio lungo. Sono in team con un deficiente. Non lo so, ma io sto chiedendo tutto. Ho spazio per poco. Oh! Oro! Come faccio? Marco. Marco al centro. Marco al centro. Marco al centro. Non posso. Marco! Non posso. Non posso, cazzo. To, 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 la protezione. Alfredo Pinna. To, Pinna. Alfredo Pinna. Sta arrivando un tizio, eh. Ma non me ne frega niente. Ma spero che spacchi il coso. Ma perché? Tifoso. Ti dico di venire a centro. Tu venire a centro. Tu venire a centro. Io Ibra. Sta arrivando gente. Figlio del puttana. Minchia, sta facendo... Amm, pazzo. Sta facendo il coso da sopra. Sta facendo il pezzaccio. Sta facendo il pezzaccio. No. Eh, partiamo. Marci, ci stanno togliendo il letto. Marci. Marci, il letto. Dove cazzo è? No. Marco, non posso far venire. Marci, il letto. Noi. Puttana, io non riusciremo mai a registrare una cazzo di partita. No, scialla, scialla. Scialla, siamo vivi. Siamo vivi, di Cristo. Che palle. Siamo vivi. Non è vero. No. Ho due cuori. È bello. Sei morto te? No. Sei morto? No, mi ammazzo se vuoi. No, perché? Ho perso altri tre cuori. Marci, basta. Tu hai detto di morire. Oh. Ho 32 bistecchi. Che cazzo te ne fai 32 bistecchi? Non so, però è figo. Marco, qua serve la enderperla. Cosa? Vieni qui, vieni qui, vieni qui, Marco. Vieni qui, coprivo. Io ando, sta arrivando. Io se muoio fa niente. Se muoio fa niente. Vieni qua, ti lascio l'oro. Dammi a me. Vieni, ti do l'oro. Facciamo l'arco indietro. Vieni qua. Ok, vuoi che ti faccia un arco con infiniti? Ti faccio anche una spada? Ok. Spada, per favore, armatura. Cazzo, ma te la davo subito lì, te la davo. No, no, ora se muoio io fa niente. Ok, fatto. Poi. Ok, hanno distrutto il letto. No, 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 sono in due contro di me. Due contro di me, no. Tre contro di me. Tre contro di me. Tre contro di te. Tre contro di me. Mi spiace, però. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, arriviamo a 200 like, come ho detto nella intro. Seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo in questo video. Da Marchi è tutto. Bella.